Gli animi sono alle stelle e gli intenti sono bellici, le nostre non saranno partite, bensì marce sul nemico, non scendiamo in campo per fraternizzare con l'avversario, la nostra meta è annientare, distruggere, polverizzare l'avversario, se l'avversario pensa a farci gol, noi pensiamo a umiliare l'avversario, tifosi, amici, cittadini di armaditaggia, gli chiamo a raccolta verso il complesso sportivo.